Martiti 31, su invito del Presidente della provincia, questo comune, tutti i comuni della provincia e poi anzi tutti i comuni d'Italia, perché hanno aderito tutti, avranno le bandiere a mezz'asta e a mezzogiorno i sindaci rispetteranno un momento di silenzio, un minuto di silenzio davanti al monumento dei caduti, proprio per onorare queste persone. E comunque vi prometto, alla fine, quando tutto sarà alle nostre spalle, dedicheremo un momento di commiato collettivo ai nostri morti causati dal coronavirus in modo da poterli salutare adeguatamente.